Siamo questa festa, sicuramente per ringraziare le elezioni di Giacomo Guzzi, ma ricordate tutti che domenica dobbiamo fare l'ultimo atto di questa straordinaria cavalcata che abbiamo fatto e dare finalmente la possibilità a Pescara di ripartire finalmente e tutti insieme aiuteremo Marco a governare questa città insieme a tutti voi. Io adesso do subito la parola a Marco perché Marco ci deve parlare, 5 minuti deve scappare e poi ritorna perché c'è un altro appuntamento, capite tutti che dobbiamo vincere le elezioni, quindi dobbiamo incontrare più gente possibile, poi con calma parleremo, arriverà anche Tonica Estricone, onorevole, con Giacomo, con me e con altri ospiti. Benissimo, la parola a Marco. Da consumato cantante confidenziale stacco il microfono e mi protende verso la folla che ringrazio naturalmente, ringrazio perché da tanto tempo mi sopporto in quanto vado in giro da febbraio, pensate un po', le primarie sono state una lunga corsa, sono dimagrito di circa 10 chili che mostra come ci sono tanti aspetti positivi della politica, non ultimo quello estetico e ho chiesto la cortesia di rompere il ghiaccio in quanto come il sospetto che questo parterre sia abbastanza favorevole alla proposta politica del centrosinistro, non so perché, ho questa idea e tuttavia mi attende di qui a qualche centinaio di metri invece un incontro un po' più forse delicato, con dei signori delusi dal centrodestra. Devo dire che la delusione mi sembra abbastanza palpabile in città, anche ieri c'è stato un grande assist per noi tutti con il caos più totale in cui versava la nostra città e in una parola la considerazione è questa. Penso che chi si candida a essere classe dirigente o chi come per esempio il sindaco uscente si ricandida a essere classe dirigente, naturalmente deve proporre all'attenzione dell'opinione pubblica un bilancio, 5 anni di attività. Per me, ed è forse scontato questo, la Pescara del 2014 è ben peggiore, cara signora, di quella del 2009 e quindi credo proprio sia giunta l'ora di dare una svolta a tutto questo, di cercare di recuperare un ruolo di guida dell'ambito della nostra riconquistata regione Abruzzo, un ruolo che in qualche modo compete a Pescara perché nei numeri di questa che è il vero epicentro del sistema Abruzzo. Naturalmente però non basta limitarsi a biasimare il prossimo, bisogna essere in grado di offrire un'alternativa credibile, vi risparmio notazioni sui programmi perché sono circa 40 giorni e sono sicuro che a cui non ce n'è bisogno, però penso anche che sia indispensabile cercare di recuperare una trama di fiducia fra le istituzioni in qualche modo e l'opinione pubblica, perché su questo credo che ci sia molto da lavorare. Un'ultima cosa, le promesse dei politici, naturalmente voi non fidatevi delle promesse dei politici così come non ci si fida delle promesse dei marinai, però una cosa mi sento di dirla perché è inevitabilmente la linea, la stella polare che seguirò, perché tutto farò tranne rinchiudermi a Piazza Italia numero 1. Piazza Italia numero 1 è la sede del Comune perché chi indossa una fascia tricolore non può limitarsi a farlo nelle cerimonie ufficiali, oggi per esempio il 2 giugno alla festa della Repubblica, ma in qualche modo deve togliersela, deve spogliarsi di questa fascia e deve essere uomo fra gli uomini, deve essere disponibile, deve mostrare il volto del sorriso, deve essere capace di ascolto, deve essere anche capace di costruire. La disponibilità mi sembra una questione molto importante perché c'è tanta gente che è molto più sfortunata di noi, qui magari basta anche una sola parola, poi certo se uno riesce a risolvere anche dei problemi tanto meglio, però mi sembra che questa sia la cifra e la direzione verso cui tende. Detto questo io vado a recuperare una trentina di voti di ambiente centrodestra, vi lascio in buone mani e ci vediamo dopo perché ho idea che ci siano anche dei movimenti interessanti su quell'altra terrazza. Grazie a tutti e buonasera. Buonasera a tutti, questa sera è la festa di Giacomo. Sono emozionatissima perché è stato un lungo percorso, iniziato con una candidatura non casuale ma nata su una termiata zona di Pescara dove Giacomo ha lavorato davvero tanto, ha lavorato bene sia prima nel quartiere e poi fino a decidere di candidarsi per poter lavorare per questa città. Ha preso tanti voti, io vorrei, non dico un applauso per ogni voto e quindi grazie a tutti voi che gli avete dato una grossissima mano ma un abbraccio, un applauso a Giacomo Cussi che è stato davvero bravissimo. Noi eravamo fiduciosi perché stanno in giro per la strada parlando con la gente, Giacomo era a volte convinto che tutto andasse bene, a volte chiaramente c'era l'ansia da prestazione però io credo che se tutti questi voti sono arrivati, sono arrivati a Giacomo, sono arrivati al centro-sinistra vuol dire che Giacomo ha saputo conquistarseli uno a uno. Probabilmente il cambio avverso che noi abbiamo utilizzato in tutta la campagna ettrale voleva dire questo, mostrarsi per quello che si era, dimostrare che quello che si era fatto era stato fatto fino in fondo e sono sicura che con un ruolo che sicuramente è importante, verrà dato a Giacomo potrà fare ancora di più e potrà rendervi orgogliosi di tutto quello che ha detto in campagna ettrale perché molto probabilmente le promesse, Giacomo ascoltami, le dovrei portare tutte a termine, dovrà tutto quello che avrei promesso in giro, sono certa che potrei portarlo a termine. Un appello importante, l'otto è la partita della vita, noi dobbiamo cambiare questa città, lo possiamo fare con un candidato come Marco Alessandrini che è il miglior candidato che potremmo esprimere, una persona giovane, una persona brava, onesta e una persona che ha dimostrato di poter dare un nuovo volto a questa città. Io vi ringrazio e vi abbraccio tutti quanti o non uno perché lo sforzo che è stato fatto per Giacomo Cuzzi e per il Partito Democratico non era facile, è stato fatto e quindi che dire, un altro applauso a Giacomo è bravissimo. Toni Castricone, passo la parola a Francesca. Grazie, io sono venuta qui veramente per ringraziare voi uno a uno e per il lavoro che Giacomo ha fatto ma che sicuramente ciascuno di voi avrà fatto. Il risultato che Giacomo ha ottenuto è il simbolo di una vittoria, il simbolo di una vittoria del Partito Democratico ma anche della sconfitta di una rabbia, di una paura, di una mancanza di proposta che c'è dall'altra parte che noi invece mettendo insieme una classe dirigente giovane, capace, motivata, appassionata siamo riusciti a sconfiggere. Questa volta abbiamo vinto perché abbiamo messo in campo la speranza, la speranza che per esempio Giacomo ha rappresentato facendo chilometri di strada a piedi, bussando a tutte le porte dei suoi amici, dei suoi conoscenti, delle persone che lo stimavano e questa è stata la nostra vittoria. Noi questa volta abbiamo vinto perché abbiamo messo in campo il cambiamento e dobbiamo proseguire su questa strada perché guardate la fiducia che ci è stata data con questa tornata elettorale, una fiducia che non è scontata e che non è per sempre, è una fiducia che ci è stata data perché ci hanno detto questa è la strada, andate avanti così non si può tornare indietro e la barra va tenuta dritta su questa voglia di cambiamento, rinnovamento e speranza ma anche e soprattutto sulla voglia di una politica genuina, come diceva prima Marco, delle persone che parlano con tutti i cittadini, che non hanno paura dei cittadini, che non sfugono alle loro domande e anche alle loro critiche. Io sono sicura che Giacomo in Consiglio Comunale e in tutti i ruoli importanti che ricoprirà farà così perché anche il Partito Democratico gli chiederà di fare così e io personalmente chiedo a tutti voi di ricordarci sempre di fare così. Grazie per quello che avete fatto, grazie a Giacomo, in bocca al lupo a lui per tutto quello che deve ancora venire. Grazie. E Toni Castricone. Allora faccio da me rapidamente, Giacomo vieni qua perché dopo tocca atteso, ho capito bene, io mi scuso per il lieve ritardo ma abituato agli orari pescaresi me la sono presa un po' con comodo, ma vedo che qua c'è un grande pubblico per una grande festa che è degna del risultato straordinario che io mi aspettavo, ma devo essere sincero, non in questa dimensione da parte di Giacomo, il che significa che in questi anni, in questo tempo, nei ruoli già istituzionali che lui ha ricoperto, ha saputo rappresentare non solo il suo quartiere ma alcune istanze fondamentali della città di Pescara. L'ha saputo fare e quindi ha raccolto anche in questa tornata elettorale il giusto consenso che doveva raccogliere. E venendo ho sentito che c'era o c'è ancora in qualche altro posto Marco Alessandrini, non so se mi sentirà perché adesso c'è quest'ultimo pezzo di campagna elettorale, come veniva detto, un in bocca al lupo, un aiuto, un lavoro e penso che questa festa abbia un doppio gusto, cioè il festeggiamento per Giacomo, ma anche un po' ritrovarsi per poter fare quest'ultimo pezzo di campagna elettorale per dire a tutti quanti voi e a tutti quanti noi di dover andare domenica a votare, votare per Marco Alessandrini perché questo significherà che non solo vince il centrosinistra ma che anche il risultato di Giacomo sarà un risultato all'interno di una maggioranza dove io penso che lui debba anche ricoprire un ruolo importante. E dico una cosa, questa città ha bisogno di un profondo rinnovamento e penso che abbia dato un risultato, un consenso in questa direzione che è quella del rinnovamento, Giacomo ha usato questo slogan del cambiaverso, della svolta buona, giusto? Se tu sei più renziano di me quindi sei più attento agli slogan. Quindi in questa direzione noi dobbiamo anche andare e penso che anche la composizione, chi avrà ruoli importanti in giunta, nell'esecutivo dovranno rappresentare anche un pezzo di cambiamento, dovranno rappresentare la considerazione anche dei cittadini, cioè del consenso che ognuno ha saputo raccogliere in questo tempo e penso che Giacomo abbia raccolto un consenso tale che non ho timore né vergogna di dirlo ma lo faccio con una punta di orgoglio che non è determinata solo dall'amicizia personale che in politica vale fino a un certo punto, ma anche dalla collaborazione politica che noi abbiamo avuto negli ultimi 4-5 anni e penso che Giacomo debba essere una di quelle persone che potranno dare una svolta nella città. Per farlo è giusto che lui abbia un ruolo giusto e necessario che gli permetterà di poter dare le risposte e di doversi e sapersi mettere alla prova perché finite le elezioni ognuno di noi, in questo caso parliamo di Giacomo, dovrà mettersi alla prova con i problemi tanti, reali, concreti, profondi di questa città ma soprattutto con la capacità di saper determinare che quei problemi non siano più tali ma siano una soluzione, un'opportunità, un cambiamento profondo della società e dello sviluppo della città di Pescara. Penso che Giacomo abbia rappresentato in questa campagna elettorale con il suo entusiasmo la possibilità, la capacità di saper fare questo. Adesso io dico mettiamolo alla prova e sono convinto che saprà dare le risposte che non solo voi, ma che tutti quanti noi ci aspettiamo, ma non solo noi, ma che tutta la città ci aspetta. Grazie! Bocca a me! Abbiamo cambiato verso? Buonasera a tutti! È la prima sera che non vi devo convincere eppure è la sera che sono più emozionato, quindi è un po' difficile per me perché sono veramente commosso dall'affetto che ognuno di voi mi ha dimostrato in campagna elettorale. Questa volta devo partire con i ringraziamenti perché davvero abbiamo ottenuto un risultato, adesso sarà del mio amico Massimo Marino, straordinario. È un risultato importante, soprattutto in questa parte di città dove noi abbiamo profuso un impegno grande in questi anni. Io devo ringraziare e parto dai ringraziamenti doverosi nei confronti della mia famiglia, consentitemelo. Ringrazio la mia mamma e ringrazio il mio papà. La mia mamma perché mi ha insegnato che nella vita tutto è possibile, mi ha insegnato sempre a camminare a testa alta e mi ha insegnato che con il lavoro i risultati si raggiungono. Io a lei devo molto e facciamogli un applauso perché è una grande donna che mi è stata sempre vicino. Ringrazio il mio papà perché mi ha trasmesso una passione importante per quella che è la buona politica e io gli devo molto perché è riuscito a trasmettermi il lato positivo della politica, quello della vicinanza alle persone, della vicinanza alla gente, soprattutto della vicinanza a quelli che nella società oggi sono considerati come gli ultimi di cui la politica dovrebbe occuparsi di più. Ringrazio anche Zio Nevio che stasera non è qui ma che è stato per me ed è un sostegno politico importante e che mi ha affidato durante la campagna elettorale delle parole davvero che mi hanno colpito e che porterò per sempre nel mio cuore, nella mia testa e in tutte le cose che farò nell'ambito politico. Consentitemi di ringraziare tutta la mia grande famiglia, siete veramente grandi, dal primo all'ultimo grado di parentela. Io vi chiedo sempre tanto e voi riuscite sempre a darmi di più e credo che non basteranno i giorni per ricambiarvi dell'affetto che voi mi avete dato non solo durante questa campagna elettorale ma in tutti i 31 anni della mia vita. Un ringraziamento particolarissimo e non me ne voglia nessuno agli altri miei genitori, zionino e zia Gabriella. Sono per me una mamma e un papà. Mi hanno sostenuto in tutti i modi e loro hanno voluto questa grande festa e io a loro davvero devo tantissimo. E poi al mio fratellone, oltre che ai miei fratelli ufficiali Giulio, Giovanni e Benedetta, Mauro, non me ne vogliono gli altri cugini, ma è davvero per me un sostegno importante e una guida durante tutto il mio percorso. Questi sono i ringraziamenti doverosissimi che io sento davvero di fare dal profondo del mio cuore. Ringrazio tutti gli zii perché siete stati veramente per me un sostegno indispensabile e mi avete riempito veramente d'amore e di affetto e non sarò mai abbastanza grato per quello che avete fatto per me. Ringrazio tutti quanti, tutto diciamo così l'apparato politico, a partire dai miei amici consiglieri di quartiere. Abbiamo ottenuto uno straordinario risultato qui a Porta Nuova. Siamo grandi, nessuno mai è riuscito a ottenere questi numeri e noi dobbiamo essere orgogliosi e metto in testa Massimo Marino, Roberto Ambrosini, Moreno e tutti quelli, Dino, Luciano, Massimo Sfavorri, adesso dimenticherò sicuramente qualcuno, ma tutti, Sergio Cirillo, Daniele Carfagna, tutti quelli che mi sono stati vicini e con cui in questi anni abbiamo elaborato proposte, idee, progetti e anche risultati. Questo vuol dire che in politica quando ci si impegna sui fatti, sulle cose concrete, i risultati poi esistono, avvengono e accadono delle cose belle. Noi abbiamo fatto sì che un quartiere si unisse intorno ad una candidatura e oggi con coraggio dobbiamo andare avanti a testa alta perché il cambio avverso della politica significa che poi le cose si dicono in campagna elettorale e si fanno il giorno successivo in cui ci viene affidata la responsabilità di governare questa città e noi lo faremo, lo faremo con coraggio, con forza e con determinazione. Noi non abbiamo fatto promesse impossibili durante la campagna elettorale, però abbiamo fatto una promessa che in questi anni saremo rintracciabili, che in questi anni io lavorerò 19 ore al giorno, consentitevi 5 ore per dormire e che saremo sempre a disposizione di tutti. In questi anni abbiamo avuto un comune chiuso, un'amministrazione disattenta, dei politici lassisti ed è questo il male della politica, 20 anni di nulla, a partire dal livello nazionale fino a tramutarsi al livello locale. Noi dobbiamo cambiare verse e questo significa che saremo vicini alla gente, saremo vicini alle problematiche del nostro territorio e riusciremo a risolvere con coraggio, con determinazione, con la passione e con il lavoro di tutti i problemi, in primis che riguardano questo territorio, perché noi la forza l'abbiamo ottenuta qui e ci dovremo occupare, come abbiamo detto in campagna elettorale, del nostro quartiere che diventa il quartiere più bello della nostra città. Avremo un grande compito, quello di donare l'anima a Pescara, ha bisogno di una vocazione, ha bisogno di un rilancio, una città che oggi è attraverso un processo di desertificazione e noi l'abbiamo, come erano le parole della campagna elettorale, arriva il momento in cui il coraggio deve essere più forte della comodità e la speranza deve prendere il posto della rassegnazione. Noi vogliamo interpretare come Renzi interpreta a livello nazionale la speranza di questa città, la possibilità. Pescara deve tornare ad essere il miglior luogo dove far crescere le idee, con una politica che non mischia le carte per creare il caos, ma con una politica che è rintracciabile, che crea semplificazione, che abbatte il muro della burocrazia. Noi saremo vicini a tutti, soprattutto vicini a una città che diverrà libera dalle periferie, una città mi piace dire a periferia free, dove gli interventi si fanno soprattutto in quella parte della città dove in questi anni sono stati dimenticati i nostri quartieri, le nostre infrastrutture e dove gli ex siti industriali sono divenuti delle case e degli alberghi della disperazione. Noi saremo vicini agli ultimi e cercheremo di rilanciare anche il processo infrastrutturale di questa città, con una gigantesca opera, come piace dire allo zio, di rammendo tra le periferie e quello che è il centro della nostra city. Per fare tutto questo abbiamo bisogno di uno sforzo importante, io ringraziando voi ce l'ho fatta, nel senso che abbiamo avuto uno straordinario risultato. Adesso dobbiamo fare gli ultimi 100 metri per Marco Alessandrini, per far sì che questo sogno diventi realtà e per far sì che Pescara venga liberata da 5 anni di nulla. E quando dico questo non lo dico perché è una appartenenza politica, lo dico perché è sotto gli occhi di tutti. Un buon amministratore non si giudica dal partito che occupa, non si giudica dall'ideologia politica, ma si giudica da quello che riesce a mettere in campo per la propria città. Noi siamo stati eletti per fare delle cose e nei 5 anni passati queste cose non sono state fatte. Noi vogliamo, e lo ripeto, incarnare la speranza. Toccherà a noi, realizzare il sogno di modernità di Pescara e il sogno di tutti quelli che ci hanno affidato la fiducia in questi mesi di campagna elettorale e con questo straordinario risultato. Uniamoci tutti per Marco Alessandrini perché sabato e domenica dobbiamo ottenere una vittoria importante, una vittoria netta, dobbiamo scacciare via tutti i cattivi propositi che sono stati riversati su questa città per 5 anni e dobbiamo far sì che con una squadra di giovani, con coraggio, forza, determinazione e passione, Pescara torni a prendere il volo. Noi abbiamo detto, e l'ho detto all'apertura della campagna elettorale, Pescara è come una bicicletta, se non pedali cade. Voi mi avete dato una grande responsabilità, qualcuno ieri su Facebook mi ha scritto, hai voluto la bicicletta, adesso pedalo. Io ho le gambe, mi avete dato la forza e state sicuri che in 5 anni allacciate le cinture perché faremo volare la nostra città insieme a voi che sarete i referenti di questo importante gruppo e di questo importantissimo risultato. Un ultimo ringraziamento, ringrazio anche quelli che in campagna elettorale non ci hanno aiutato, quelli che pensavano di toglierci qualche voto con le telefonate del sabato, quelli che ci hanno abbandonato, quelli che ci hanno tradito. Grazie anche a loro abbiamo avuto la forza per andare più forte, per consumare le scarpe e per suonare a qualche campanello in più. Io ringrazio e mi scuso anche con tutto lo staff dei comitati elettorali, mi avete sopportato prima di tutto e poi supportato. Magari ragazzi abbiamo fatto un grande lavoro e dovete essere fieri perché siete l'artefici insieme a me di questo cambiamento importante. Pescara ha cambiato verso e insieme a voi sabato completeremo l'opera e andremo al governo, domenica completeremo l'opera e andremo al governo di questa città. Grazie a tutti, uno per uno, un abbraccio forte e che la festa abbia inizio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!